Qual è la migliore strada per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione del sangue se non quella televisiva? L'Avis entra nel piccolo schermo lanciando una rubrica di informazione che racconta la storia e la composizione dell'associazione, le attività poste in essere durante l'anno, con una particolare attenzione verso lo stile di vita del donatore, chi può donare, quante volte si dona, chi è escluso, come ci si presenta, al centro trasfusionale o alle sedi Avis. Nel corso della rubrica Avis in forma, promossa dall'Avis di Pratola Peligna, in collaborazione con l'Avis Sulmonese, provinciale e regionale, interverrà un pool di esperti, fra medici, volontari, giovani del servizio civile e dirigenti, una decina di puntate dove si toccheranno svariati temi riferiti alla donazione del sangue. Alla fine di ogni trasmissione è prevista una sezione dedicata all'aspetto medico che sarà sviscerato nei minimi particolari. Purtroppo sul territorio abbiamo una scarsa possibilità di comunicazione con la parte esterna, spiega il presidente Avis Pratola Peligna, Sergio Paolucci, nel corso della rubrica sociale Un Occhio per Tutti. Ci siamo riproposti, anche sulla base di quelle che sono le norme statutarie, di poter comunicare attraverso una emittente televisiva creando appunto una rubrica televisiva in modo da raggiungere il maggior numero possibile di persone. Quali saranno i principali argomenti che poi saranno proprio oggetto della rubrica televisiva? Partendo dalla presentazione della nostra associazione, in secondo luogo avere la possibilità di portare a conoscenza anche di quelli che sono normalmente gli esami che vengono svolti attraverso la donazione e per la conoscenza stessa dei valori di questi esami attraverso una parte sanitaria più specifica. Sono 1600 le sacche che vengono raccolte nel centro trasfusionale di Summona nel corso dell'anno. La rubrica televisiva che sarà veicolata sul territorio provinciale e regionale andrà in onda sul canale 18 del Digitale Terrestre. Onda TV a fine mese.